Quando? Ma si parla al telefono? Scusa, no, vai, scusi subito Come ti chiami? Scusa, io albanese Ciptar, Ciptar Da quanti anni sei in Italia? Da quanti anni sei in Italia? Il 91 vieni qui il 92 vieni qui con amici italiani con il lavoro, con soltanto Nel 92? Come ti chiami? Come ti chiami? Io? Si Per che ti interessa questo cosa? Facciamo il video intervista si chiama Io ho visto Scander Conosci Scanderberg? Io sono amico di Saliberiscia Saliberiscia? Grande uomo Saliberiscia Saliberiscia numero uno Conosci Saliberiscia da venti anni A me non mi interessa, mi interessa famiglia e per tutto il mondo Hai capito? Non mi interessa nessuno, scusa Ti volevo fare una domanda semplice Se vuoi Bevi il caffè ti faccio io Miliardari di là E tu non mi interessa nessuno Però ti volevo fare una domanda troppo importante Poi vado via Se oggi o domani mori e arrivi da Gesù dal Signore Fammi finire la domanda Fammi finire la domanda Fammi finire la domanda Non c'è E tu non prendi soldi Ti prendi soldi E tu non prendi soldi E tu non prendi soldi E tu non prendi soldi E tu bevi per conto mio Soldato mio e tu bevi una birra hai fatto la birra? vedi che qui arriva i carabinieri prendiamo questa birra ti abbiamo visto prima lo metto via io non che ti arresti nessuno però lo metto qua la birra Skanderbeo non sa niente Skanderbeo però hanno ammazzato le Turchia ha perso anche Skanderbeo però una domanda seria se muori davvero vai da Gesù e lui ti dice fammi parlare il cazzo se non parli solo te allora scusami anche Gesù prendi mano in portafoglio così però non paghi però se ti dice lui che hai fatto di buono te in questa vita qui che hai fatto di buono te hai dato quanti anni hai hai te 70 anni 60 anni 75 io 73 anni io ti ho dato la vita per 73 anni te cosa ne hai fatto di questa vita qua finora? se tu dici arrivi in paradiso e lui ti chiedi cosa hai fatto per 73 anni hai bevuto hai mangiato hai fatto figlioli no no io ho bevuto io lavorare qui moratoio fai tutti sette anni fa fai ictus prostato operato ah prostata capito mi dispiace per te questo fratello ma hai aiutato qualcuno hai aiutato qualche albanese che è arrivato qui hai fatto una cosa buona in questa vita per me non per loro non per te non mi interessa mi interessa famiglia non mi interessa del mondo del mondo per tutti scusa ti dai soldi giù non ti dai niente devi lavorare cazzo allora che? devi lavorare complimenti vai ciao amico mi fai male quella è di oro questa cazzo è di oro eh dove l'hai preso? prima io non ho preso io questi prima in albania io fai rame ma questo è i 14 carati questo qua non è 18 io in albania prima fai rame artistiche non lo conosci io quello lì in albania rame artistiche ma non ce l'avete oro buono per in albania questo non è oro buono 14 carati questo non è buono questo ho fatto io con prima in albania c'è tanti amici italiani si ma è vuoto dentro non ce l'hai oro dentro è vuoto quello lì è vuoto è vuoto ma che mi interessa fai vedere l'oroologio ma che? ci hai soldi l'oroologio oro anche questi qui oro ok mi ha dato la rame hai detto lo spio? no no si scherza frate però questi qui si usavano anche in romania ma non mi interessa mi lo rigate a me? basta scusa basta non mi dai un pune mi fai male va bene va bene va bene